Siamo con Gabriella Gambino, sottosegretario del di Castero per i laici, la famiglia e la vita, per parlare di un volume sulla santità nei nuclei familiari, la cui presentazione è in programma a margine degli appuntamenti organizzati per il decimo incontro mondiale delle famiglie. Dottoressa, di cosa tratta questo volume? Il testo che è intitolato La Santità nelle famiglie del mondo e che è edito dalla LEV, è stato pubblicato pochi giorni fa, è un testo in cui abbiamo scelto di raccogliere le biografie di otto coppie di sposi per le quali è stato avviato un processo di beatificazione o di canonizzazione nella Chiesa, otto coppie che hanno irraggiato la loro santità all'interno della loro famiglia e nella comunità e nel territorio in cui vivevano e che davvero abbiamo pensato potessero essere una ispirazione per le nostre famiglie, perché erano famiglie normali, come le nostre. Otto coppie di sposi che in ogni parte del mondo, alcune sono italiane, due spagnole, una coppia dall'Africa, una coppia dal Giappone addirittura e sono coppie come noi che hanno vissuto una quotidianità normale, sposi che si sono innamorati, che si sono sposati, hanno avuto figli, hanno fatto la fatica, la grande fatica di educare, di crescere dei figli nella fede, in un mondo pieno di sfide, di difficoltà, hanno avuto malattie, sofferenze, alcuni sono morti drammaticamente, ma sono famiglie che hanno in fin dei conti saputo vivere alla presenza del Signore, mettendo il Signore al centro della loro vita, facendo un po' quello che cerchiamo di fare tutti noi sposi cristiani con i nostri figli. Quindi la santità è un orizzonte possibile? Sì, il messaggio del testo è questo, che la santità davvero, come dice Papa Francesco, è per tutti, non è per pochi privilegiati e soprattutto che il matrimonio è un sacramento ed è una chiamata alla santità in due. Credo che questo sia il bello del messaggio di questo libro, da dare anche ai giovani, renderci conto che sposarci è una chiamata a fare un cammino insieme verso la santità. Come battezzati tutti siamo chiamati alla santità, ma il matrimonio in maniera particolare ci chiama a farlo insieme e questo credo che sia un messaggio importante da dare, anche molto incoraggiante, pieno di speranza. Lei parlava dei giovani, ma a chi altri si rivolge questo libro e qual è l'uso che avete ipotizzato? Credo che si rivolga a chiunque desideri un po' capire il mistero e la bellezza del matrimonio e quindi anche ai consacrati, ai religiosi, ai sacerdoti, ma anche agli sposi, alle famiglie che desiderano metterselo sul comodino e leggerlo un po' la sera. Davvero è un testo che ispira tanta meditazione, tanto che quando lo abbiamo elaborato a un certo punto ci siamo resi conto che poteva essere utile mettere alla fine di ogni storia degli spunti di riflessione personale e familiare, perché davvero è un testo che suscita tante domande e tanto desiderio di capire davvero come si può vivere in maniera semplice la santità quotidiana. Senta, come sostenere e incoraggiare in concreto le famiglie in questo particolare momento storico? Ma non c'è una ricetta, ma credo che un po' anche lo scopo di questi strumenti sia quello di far sentire alle famiglie che non sono sole. Noi famiglie abbiamo bisogno di sentirci parte di una comunità, abbiamo bisogno di condividere, di sentirci dentro delle comunità. Quindi credo che questi strumenti siano anche modalità semplici per dire a ciascuno di noi non sei solo, guarda che la fatica che fai o la tua vita è anche la mia vita e quindi poterla condividere, poterci sentire parte di una famiglia di famiglie, come dice Papa Francesco, oggi è importante, soprattutto all'interno delle parrocchie. Qual è il consiglio in particolare ai giovani? Un consiglio non saprei, un messaggio forse potrebbe essere che davvero sposarsi è una via piena di sfide, ma anche di bellezza e che davvero oggi è vero che ci vuole tanto coraggio per sposarsi, però il matrimonio è davvero una chiamata che la gran parte dei fedeli laici nel mondo hanno e quindi mettersi in ascolto di questa chiamata, scoprirla e sentirsi proprio scelti per questa chiamata, credo che sia un privilegio oggi, quindi ai giovani direi che il matrimonio è davvero una cosa bella e dobbiamo dare questo messaggio di bellezza che spero verrà fuori anche dall'incontro mondiale delle famiglie. L'incontro mondiale delle famiglie, questo libro hanno lo stesso destino, se vogliamo, qual è il suo auspicio per entrambe le iniziative? Proprio questo, cioè davvero ricominciare a mettere al centro anche dell'annuncio ai giovani che la famiglia è una vocazione, è una via di santità ed è una cosa possibile, è una cosa reale, non è un ideale difficilissimo da raggiungere, tanti giovani oggi hanno timore di sposarsi per l'impegno del per sempre, per le sfide che sottintende, ma in realtà è una via possibile per tutti, la nostra vita quotidiana è fatta di cose normali e questa è la via di santità vera, accogliere le cose normali della vita e imparare a leggerle un po' come farebbe Gesù, come farebbe il Signore, quindi si tratta solo di mettersi in ascolto. Grazie a tutti!